Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. C'è stato ancora un colpo ai danni del comparto Orafo Aretino. Questa mattina è stato rapinato un imprenditore nel cuore della città. Lo hanno atteso ed ha cerchiato in tre una rapina ai danni di un imprenditore Orafo Aretino che si è consumata in pieno giorno e nel cuore della città e che avrebbe fruttato alla banda di malviventi un bottino da oltre 150.000 euro. È successo poco dopo le 8 nella centralissima Vianardi una strada a quell'ora del mattino particolarmente trafficata. A me ne fa così. Lei è un'azienda Orafa? Adesso si ha paura. I banditi qui hanno atteso l'imprenditore mentre parcheggiava l'auto per poi spostarsi nella sua azienda che si trova a pochi passi da dove si è consumato il colpo in via della Chimera. I tre malviventi che non erano mascherati né in qualche modo travisati a questo punto lo avrebbero sorpreso alle spalle e dopo averlo accerchiato si sarebbero fatti consegnare le due valigette che si trovavano nel portabagagli contenenti il campionario di gioielli poi la fuga a bordo di un'auto scura. Ad allertare le forze dell'ordine è stata la stessa vittima ma non ci sono testimoni della rapina. Per strada nessuno infatti si è accorto di niente. Ma è un po' nuova questa cosa nel senso che io ci sono nato in questa zona è sempre stata una zona tranquilla quindi sinceramente mi lascia un po' meravigliato. Immediato l'avvio delle indagini portate avanti dalla squadra mobile della Questura di Arezzo il bottino supererebbe 150.000 euro di oro lavorato. Un'operazione antidroga in città ieri sera invece le volanti della Questura di Arezzo sono infatti intervenute in viale Giotto. Ieri sera per l'appunto sono venuto qua a prendere un caffè c'erano tre pattuglie della polizia poi cercavano la roba qui con le pile, i poliziotti sono molto impegnati ma ce ne vorrebbero tutti i giorni. Ad insospettire i poliziotti erano state due persone che ferme di fronte all'ingresso del parco Pertini in viale Giotto tentavano di adescare i passanti. Per questo ieri sera poco dopo le 21 sono scattati i controlli delle volanti della Questura di Arezzo. I due alla vista degli agenti hanno immediatamente tentato la fuga uno verso via Lorenzetti l'altro invece verso piazza Giotto. Gli agenti li hanno inseguiti e fermati. Mentre scappava uno dei due ha anche tentato di sbarazzarsi di un involucro recuperato dei poliziotti e contenente sette dosi di eroina pronte per essere cedute. Nel corso della perquisizione personale poi gli agenti hanno anche trovato 1300 euro in banconote di vario taglio presumibilmente provento dell'attività illecita. E' una problematica che esiste quella dello spaccio, della microcriminalità in questa zona? Direi proprio di sì. E soprattutto lì vicino alla scuola. Quello è una zona poco bella. C'è bisogno di controlli? Sempre, sempre. Anche qui al parco, sempre. Per uno dei due è scattata la denuncia per possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e perché irregolare sul territorio nazionale. Droga, denaro ed un telefono cellulare sono stati invece sequestrati. Quartieri di persone anziane. Più ce n'è di controlli e più siamo contenti. E quindi i controlli ben vengano. Anche ad Arezzo ieri i carabinieri hanno celebrato il 209esimo anniversario della Fondazione dell'Arba. Celebrazioni che sono state anche l'occasione per tracciare un bilancio delle attività degli ultimi 12 mesi. Si sono aperte con un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione. In Emilia Romagna le celebrazioni per i 209 anni dalla Fondazione dell'Arma dei Carabinieri ad Arezzo. La cerimonia è stata ospitata dal padiglione dell'Arezzo Fieri e Congressi. Ha visto ripercorrere un anno di attività ricordando le operazioni più importanti attraverso gli encomi. Poi due fuori programma. Un mazzo di fiori per Silvia Gobini, attuale comandante della Compagnia di Arezzo, idealmente rappresentante di tutte le donne nell'arma. Un gesto voluto appositamente dall'attuale comandante provinciale Claudio Rubertà. Anche per ribadire la lotta alla violenza contro le donne. Sì, ci ritenevamo anche sotto un profilo simbolico perché è importante cercare in qualche modo di mandare un messaggio di vicinanza e bisogna cercare di abbassare questo livello di violenza nei confronti delle donne, nei confronti della violenza di genere in generale perché non è accettabile, non è tollerabile una società moderna sviluppata nel 2023. L'amore deve essere qualcosa di libero, di puro, non può essere ispirato a sentimenti di violenza o a sentimenti di possesso. Tanti cittadini hanno voluto oggi essere presenti. Sì, ci hanno chiamato, hanno chiesto di poter partecipare e abbiamo aperto gli spazi a tutti quanti. Ecco, accanto a lei il prefetto. È stato ricordato, insomma, come del resto anche il 2 giugno, la popolazione dell'Emilia e poi tanti temi su cui sono impegnati i carabinieri, prima fra tutti la violenza contro le donne ma non solo, insomma, tanti gli encomi che sono stati ricordati e ricevuti. Beh, oggi festeggiamo il 209esimo anno della fondazione della gloriosa arma dei carabinieri da sempre, vicino ai cittadini, al servizio dei cittadini, che si distingue per la sua prossimità. Quindi i temi che sono stati affrontati sono tutti temi di grande attenzione ai quali dedichiamo tutto il nostro impegno. E poi la conoscenza diretta delle unità cinofile dei carabinieri forestali con grande gioia e sorpresa da parte di tutti presenti anche gli studenti del comprensivo Piero della Francesca mentre l'inno nazionale è stato intonato dal coro degli studenti dell'Istituto Martiri di Civitella di Badia Alpina. Italia sedesta E l'evo di Civio Se cinta la testa Dove è la vittoria Che torna la pioca Che schiava Di Roma Di Diola Di Diola Di Diola Che schiava Di Roma Di Diola Di Diola Si chiamci a colore Che si appunti alla morte Si appunti alla morte L'Italia Si chiamci a colore Che si appunti alla morte Che si appunti alla morte L'Italia Chiamò Si! Parliamo adesso della vertenza FIMER Prosegue infatti l'occupazione dello stabilimento di Terra Nuova Bracciolini Ma adesso c'è una nuova data segnata in rosso sul calendario Ed è quella del 14 giugno Data in cui il Tribunale di Arezzo ha fissato l'udienza per la dichiarazione dello stato di insolvenza Il Tribunale di Arezzo ha fissato il 14 giugno l'udienza per dichiarare lo stato di insolvenza della FIMER L'azienda di Terra Nuova Bracciolini al centro di una crisi che ha visto sfumare proprio nei giorni scorsi Il passaggio di proprietà al fondo Grebull McLaren Il decreto stabilisce che l'udienza si terrà alla presenza del ministro delle imprese e del Made in Italy O di un suo delegato che dovrà indicare entro tale data I tre nominativi che dovranno ricoprire il ruolo di commissari giudiziali per l'azienda produttrice di inverter per il fotovoltaico Lo stato di insolvenza aprirebbe infatti le porte alla procedura di amministrazione straordinaria Per poi permettere un eventuale rilancio Nello stesso decreto di convocazione il Tribunale dispone che del provvedimento siano a conoscenza Anche i creditori del concordato preventivo e il pubblico ministero Intanto il ministero delle imprese e del Made in Italy ha convocato una riunione in videoconferenza per mercoledì 7 giugno alle 11 Questa settimana infine saranno due le visite allo stabilimento valdarnese dove i lavoratori stanno continuando l'occupazione Giovedì 8 giugno alle 17 arriverà il vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro Monsignor Andrea Migliavacca Mentre sabato 10 giugno alle 11.30 ad incontrare i lavoratori della FIMER sarà l'onorevole Laura Boldrini Deputata del Partito Democratico ed ex Presidente della Camera Sul tema è intervenuto anche il Presidente di Confartigianato Arezzo Maurizio Baldi Che ha dichiarato eravamo ad un passo dalla soluzione ed oggi dopo un breve periodo di speranza Ci troviamo di nuovo appesi ad un destino incerto In questa vicenda rimetterci non sono solamente i lavoratori della FIMER ma anche il grandissimo indotto Quello che ci auguriamo è che chiunque venga scelto per il rilancio dell'azienda Abbia le competenze necessarie per guidare una realtà così importante E' poi intervenuto anche l'ex CDA per rispondere a quanto dichiarato dagli azionisti FIMER Se gli azionisti non avessero revocato il nostro CDA scrivono in una nota FIMER sarebbe oggi salva, il concordato sarebbe andato a buon fine e il futuro dell'azienda sarebbe stato diverso E restiamo ancora in Baldarno ma ci spostiamo all'ospedale della Gruccia Dove arriva un'importante novità nel reparto di radiologia Da adesso infatti è possibile effettuare la risonanza magnetica di Fusion Wool Body Una tecnica innovativa di risonanza magnetica che consente di studiare l'intero corpo Senza radiazioni e senza mezzo di contrasto Nei pazienti oncologici questo tipo di risonanza è utilizzato in alcuni tumori Mentre nei pazienti asintomatici può essere eseguita in casi particolari Su richiesta specialistiche in aggiunta e screening standard E ancora sanità andiamo ad ascoltare la segnalazione di un'anziana cittadina Che da oltre due mesi attende un materasso anti decupito Quasi due mesi per un materasso anti decupito è ancora nulla Ad attendere una risposta è in merito alla famiglia di una 97enne retina residente in città La donna è costretta a letto per età e condizioni di salute La famiglia ha inviato la richiesta di materasso e sponde La mail è stata correttamente indirizzata all'indirizzo di posta elettronica Dell'ufficio protesi e ausili della ASL Una prima richiesta è inviata lo scorso 11 aprile Corredata dalla richiesta del medico e poi il 18 in integrazione Il 20 aprile arriva la prima risposta La sua richiesta è stata presa in carico Poi un'altra il 10 di maggio Provvediamo tempestivamente ad inoltrare il sollecito di consegna Ma a letto e sponde non arrivano Passano altri giorni, il 30 maggio, il terzo sollecito da parte della famiglia Ma nulla A contattare la nostra redazione nei giorni scorsi è stato un familiare Esasperato dalla situazione Sono ormai al terzo sollecito, scrive nella sua ultima mail Per la consegna di questo benedetto letto Per una persona di 97 anni Costretta a letto e con terapie domiciliari La tempestività di cui parlate nelle vostre mail Ha quasi un sapore sarcastico e un tantino di presa in giro Ma come può un servizio funzionare così male? Si chiede come possono Non esserci risposte per situazioni così estreme La gente fa in tempo a morire Conclude prima che questa pachidermica macchina burocratica Si metta in movimento Un nuovo letto all'avanguardia invece è arrivato alla casa di riposo Fossombroni Grazie ad una donazione del Rotary Club Arezzo Un nuovo letto all'avanguardia, recolabile in altezza per salvaguardare l'incolumità dei pazienti con Alzheimer Alla casa di riposo Fossombroni Una donazione allo storico istituto cittadino da parte del Rotary Club di Arezzo Va a migliorare in concreto la qualità della vita delle persone Perché oltre alla prevenzione antidegubino Grazie alle lette che sono nella rete Oltre al materasso Che deve essere posizionato Ha questa caratteristica per le persone con decadimento cognitivo E o malattie di Alzheimer Che possono essere Può arrivare all'altezza a terra Quindi a 20 cm dal terreno E quindi senza sbarri Il service del Rotary Club Arezzo aveva trovato il proprio cuore Nell'organizzazione dello spettacolo La Commedia Divina Messo in scena nel mese di aprile nella chiesa di Santa Maria alla Pieve Quando si dona siamo felici Ma quando si dona qualcosa di utile siamo veramente soddisfatti Aver pensato di donare un letto antidecupito Un letto che ha tutta una serie di meccanismi Che possono agevolare una persona che ha necessità di rimanere a lungo periodo distesa E può contribuire quello stesso letto Con quegli accorgimenti che ha A migliorare la qualità di vita di questa stessa persona È sicuramente una grande soddisfazione Grazie a quanto raccolto è stato donato il nuovo letto all'Istituto Cittadino La nostra mission qui sia di chi ci lavora che di chi fa volontariato Che di chi come noi cerca di dare il proprio contributo È proprio quella di migliorare la vita degli ospiti E grazie a Rotary questo oggi è ancora più possibile Ancora una donazione in questo caso in Valdichiana a Cortona Dove è stato consegnato in municipio l'assegno con il ricavato del raduno di Porsche All'associazione Amici di Vada che si occupa di ragazzi con disabilità L'appuntamento dedicato ai motori si era svolto lo scorso 7 maggio Ai giardini del parterre Circa 60 gli equipaggi a bordo di altrettanti esemplari di Porsche Che avevano sfilato nel borgo della Valdichiana Parliamo adesso invece di un'iniziativa dedicata agli amici a quattro zampe Che in programma per domenica 11 giugno Ora Bau Si tratta di una passeggiata organizzata da Officina Rilancio Arezzo Che dal parco Il Prato con appuntamento alle 9.30 Si sposterà a lungo via Lebozzi per raggiungere il parco di Villa Severi Poi via Raffaello Sanzio e per terminare la camminata al parco Giotto L'evento con il patrocinio del comune di Arezzo Prevede una quota di iscrizione di 5 euro E parte dei proventi saranno devoluti alla canile comunale gestito dall'Empa Parliamo adesso di giostra della Zaracino Si avvicina infatti la 143esima edizione in programma per sabato 17 giugno E gli operatori sono al lavoro per allestire Piazza Grande Sono infatti partiti come vedete in queste immagini i lavori per il montaggio delle tribune Iniziando da quella Chimet che si trova davanti al palazzo di Fraternita dei Laici E si concluderanno la prossima settimana con le tribune Orchidea Preziosi e Chimera Golda Nei prossimi giorni poi arriverà anche la terra per allestire la lizza E sabato verrà effettuato il montaggio del buratto Resta invece l'incognita del nuovo luogo nel quale verrà consegnata la lancia d'oro alla quartiere Che vincerà la 143esima edizione E restiamo nel cuore della città di Arezzo alla Circolo Artistico Una mostra di quattro pittrici della Cenacolo degli Artisti Aretini Noi siamo quattro artisti, quattro donne amiche pittrici Abbiamo questa bella passione in comune Abbiamo deciso di esporre con il gruppo del Cenacolo al Circolo Artistico Si chiama Tracce d'arte ed è l'esposizione di quattro artisti Aretine Promossa dal Cenacolo degli Artisti Troverete un po' di tutto, dall'acrilico, olio, pastello, acquerello, soggetto figurativo, paesaggio, animali Insomma ce n'è per tutti i gusti, quindi è molto vario Non è che c'è un tema predominante, quindi è abbastanza assortito Poi ci sono anche un paio di pezzi dedicati alla storia del cinema Anche quelli sì, perché era una mostra che avevamo fatto sempre con il Cenacolo degli Artisti Aretini a settembre Quindi troverete anche qualcosa inerente appunto al cinema In esposizione al Circolo Artistico di Arezzo sino a mercoledì 7 giugno La mostra Dimonia Casalini, Laura Polverini, Silvia Peruzzi e Laura Gatteschi I fiori mi piacciono anche perché fanno comunque parte della natura E fanno parte della mia vita come gli animali Sono cose vive, io le considero cose vive che mi danno energia Per cui le ritraggo Passiamo alla pagina dello sport Un'altra promozione per lo sport aretino A Piacenza infatti alla campionato italiano di Fioretto Maschile Serie B1 La squadra aretina di scherma composta da Eric Peruzzi Jacopo Peruzzi, Tommaso Francese e Leonardo Paggetti È scesa in pedana a difendere i colori del circolo schermistico aretino Ed ha conquistato il primo posto con la conseguente promozione in Serie A2 E partiranno invece da Arezzo tre atleti tecnici della All Star Arezzo Ollus Verso gli Special Olympics di Berlino La nazionale italiana farà affidamento su Michael Maia Lalli Nella formazione di pallavolo unificata mista Su Francesco Giorgi come atleta di tennis tavolo E su Claudia Del Tongo nel ruolo di vice allenatrice Della neocostituita squadra di beach volley Che rappresenteranno la città di Arezzo Nella più importante manifestazione mondiale Rivolta agli atleti con disabilità intellettive In programma da sabato 17 a domenica 25 giugno Ed i piccoli studenti dell'istituto comprensivo 4 novembre Sono stati invece protagonisti al centro sportivo Le Caselle Grazie alla collaborazione con la società sportiva Arezzo Abbiamo fatto un progetto con le scuole Dove abbiamo con il discorso della scuola calcio Introdotto la fabbricizzazione motoria per i bambini Quindi schemi motori di base applicati anche al calcio Ma insomma abbiamo fatto conoscere ai bambini I vari tipi di andature e i vari percorsi Magari cose che prima riuscivano a fare a scuola Anche due o tre ore Adesso è più facile che la faccia una scuola calcio Un progetto rivolto a bambini e bambine Di avvicinamento più in generale all'attività sportiva L'attività sportiva, quindi attivazione motoria Specifica coordinativa E poi ecco, quella poi va in direzione di tutti gli sport Noi per il calcio però è adatta a qualsiasi altra attività L'Arezzo calcio ha messo a disposizione i suoi istruttori E poi abbiamo visto insomma anche Martina che fa parte dello staff sanitario Insomma, tutte quelle che sono le qualità dell'Arezzo calcio In questo caso sono scese in campo Sì, sì, abbiamo fatto queste giornate e anche le ore a scuola Con tutti gli istruttori della scuola calcio In base chiaramente a disponibilità Con tutti gli istruttori di scienze motorie Quindi è stato un percorso fatto di livello Per quanto riguarda la fascia d'età dei bambini interessati qual era? Erano scuola primaria e secondaria E chiaramente abbiamo sempre modulato i vari percorsi E le varie tipologie di attività in base all'età E questa è diciamo la giornata di chiusura Dove i bambini ecco riescono a vedere anche dove è veramente La scuola calcio a Arezzo, quali sono le strutture E devo dire che è una soddisfazione per noi anche perché Se li stanno divertendo è molto, veramente Questa per stasera era l'ultima notizia Vi ringrazio per l'attenzione Arrivederci Grazie 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 Grazie